Questa è una cosa alla quale teniamo moltissimo quest'anno, innanzitutto perché ci abbiamo lavorato su cercando di estrapolare da tutta la nostra esperienza di palio, confrontandoci con tutti quelli che sono i nostri amici, quale potrebbe essere per quest'anno un'immagine particolare che portasse il palio in giro per Ferrara, ma soprattutto fuori. Siamo arrivati alla conclusione che probabilmente, visto che quest'anno vogliamo proporre l'idea di un palio nuovo, ma legato alla tradizione, e che in qualche modo ci sia chiamata verso Ferrara, che al palio diventa uno strumento di coinvolgimento sia di Ferrara come città, ma anche di Ferrara come strumento turistico, come possiamo chiamare così. Abbiamo pensato ad una chiarina, la chiarina è lo strumento musicale per eccellenza, non se ne abbiano male i nostri ammolini e quant'altro, semplicemente perché è proprio il richiamo, il richiamo alla piazza, il richiamo alle gare, il richiamo di chi dice, noi ci siamo, venite. Per cui l'immagine della chiarina verrà declinata nel corso di questi mesi, fino al palio, in diverse forme. Io mi auguro allestamente che voi, quando guardate per strada o camminate in giro, possiate dire una chiarina uguale palio, guarda, guarda, facciamo all'interno del palio, perché questo è esattamente quello che abbiamo cercato di proporre. Grazie. Grazie.